Se ti serve un gruppo per giocare con qualcuno, fare glitch, scambiare o fare anche raduni ti ricordo di entrare nel mio gruppo Telegram è il più grande in Italia, link in descrizione Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come ho detto dal titolo finalmente Rockstar Games ha rilasciato il trailer che adesso andremo ad analizzare vi ricordo di scaricare la mia applicazione per Android per rimanere aggiornato su tutte quante le guide tutte quante le novità di GTA Online è gratuita, trovate il link in descrizione quindi come state vedendo questo qui è il trailer, queste qui sono le novità come vedete il colpo si chiamerà il Caio Perico in arrivo il 15 dicembre che è un martedì invece ragazzi per quanto riguarda le novità insomma semplicemente ci hanno confermato che ci sarà questa nuova isola tra virgolette da conquistare con i nuovi colpi le vere novità sono queste qui ragazzi perché come vedete sarà possibile giocare il colpo totalmente in solo quindi niente più giocatori random o amici rompipalle che non ci stanno ve lo potete fare in solo tranquillamente oltre 100 nuove canzoni, nuovi DJ quindi Rockstar ha speso veramente un sacco di soldi su questo DLC vi anticipo una cosa sicuramente City Morgue la banda sarà all'interno di appunto questo DLC il colpo quindi si svolgerà da minimo un giocatore a massimo tre giocatori la cosa più importante è ovviamente che il colpo si svolgerà totalmente in solo in un'isola tropicale quindi Rockstar conferma questa diciamo impressione che aveva dato a tutti quanti l'isola sarà effettivamente tropicale quindi molto narcos onestamente quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti di questa roba si vede che Rockstar insomma ci si è impegnata perché fidatevi che i diritti d'autore per 100 brani non costano veramente poco invece in questa sezione del post come vedete ci dice che saremo noi a dover decidere come poter accedere appunto all'isola dovremo eliminare le guardie ci saranno vari approcci, vari strumenti, vari leader, varie squadre sono curioso se anche Lester diciamo guiderà questo colpo come tutti quanti oppure se ritorneranno effettivamente i personaggi della storia vi dico subito che non so onestamente se sarà disponibile in free mode ovvero su GTA Online o se forse sarà disponibile solamente su una missione esclusiva io penso più per una missione esclusiva perché anche le vecchie console ovvero PS4 e Xbox diciamo potrebbero aver difficoltà a reggerle ovviamente il DLC arriverà su tutte quante le piattaforme quindi state tranquilli Rockstar diciamo non l'ha reso un'esclusiva quindi andate tranquilli anche su PS4 e Xbox come vedete qui ci danno una breve descrizione dell'isola che appartiene a un trafficante di droga del mondo dell'aggiornamento che adesso andremo a scoprire effettivamente chi è e chi potrebbe essere ovviamente l'isola si chiama a questo punto Caio Perico non Rubio come avevamo detto l'altro giorno non so onestamente perché avevano scritto quel nome e invece questo qui ragazzi è il logo si vede che comunque ci sono tantissimi contenuti non oso immaginare quanti veicoli arriveranno quindi il 15 dicembre con martedì come al solito ragazzi Rockstar rilascia i DLC di martedì non so chi ha messo questa credenza in giro che i DLC escono di giovedì i DLC non escono più di giovedì da tipo penso 3-4 anni una roba simile invece per quanto riguarda le foto come vedete queste qui sono tutte quante le foto che si possono intravedere nel trailer vi ricordo che lo trovate su tutti quanti i profili di Rockstar Games anche su YouTube come vedete è effettivamente un'isola tropicale secondo me sarà molto grossa alcuni avevano detto che appunto l'isola era più piccola di Sandy Shore in realtà ragazzi se vedete bene queste foto è veramente enorme infatti per quel motivo non penso sarà presente in free mode perché altrimenti non potrebbero manco spiegarla quindi come vedete questa qui sarà la villa probabilmente una delle case che andremo a derubare magari a rubare dei file sicuramente ci entrerà il traffico di droga e lo capirete da queste foto che adesso vedrete soprattutto in questo caso ragazzi perché come vedete si vede che è proprio una zona un'isola privata dedicata al traffico insomma si nota se avete visto la serie tv Narcos ragazzi è identico praticamente quindi veramente una bella mossa da Rockstar onestamente la trovo molto interessante anche in questo caso si intravedono scatole di munizioni nuove quindi è veramente una cosa interessante sotto questo telone probabilmente apparterranno i nemici invece qui effettivamente ragazzi si vede proprio un dinghi con diciamo degli stabilimenti sicuramente qui c'entra la produzione di coca oppure di altri stupefacenti insomma si vede proprio che il colpo sarà incentrato secondo me proprio su quello invece da quest'altra foto è molto interessante secondo me ce l'hanno messa apposta all'interno del trailer perché potrebbero far intendere che per arrivare nell'isola si può andare solamente tramite aereo quindi magari si potrebbe organizzare un viaggio privato tramite la zona che stanno aggiungendo al casino altrimenti non si spiega come vedete questo qui è uno degli ingressi della diciamo isola come vedete bienvenidos a Cayo Perico quindi è proprio un'isola spagnola onestamente mi sembra un'isola riciclata da un arcipelago che doveva uscire su Red Dead Online che è stato trovato nei file di gioco che c'entrava con Guarma per chi non lo sapesse Guarma è l'isola tropicale di Red Dead a me onestamente sembra molto Guarma parlando di dettagli che non avete notato come vedete questo qui è un fermo immagine che dura praticamente un nanosecondo ci sono cose veramente interessanti ovvero tre nuovi veicoli che sicuramente usciranno e saranno disponibili molto probabilmente all'acquisto come vedete sono molto anni diciamo 50 onestamente molto da Sud America soprattutto il camion con le ruote e poi altra cosa veramente interessante che potete notare sopra al cancello di questa villa è proprio lo stemma probabilmente della famiglia che possiede quest'isola onestamente non so non l'ho mai visto su GTA Online fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti secondo voi cosa potrebbe essere comunque questa schermata ragazzi ci fa capire un sacco di cose fatemi sapere anche se ve ne intendete di che veicoli potrebbero essere onestamente non ne ho la più pallida idea mi sembrano comunque veicoli che potrebbero essere acquistati su Warstock Cash & Carry invece ragazzi schermata interna di questa villa come vedete è molto lussuosa addirittura un camion non ci sono dettagli perché questa immagine veramente dura meno di un nanosecondo perché poi è tutto sfocato insomma non si vede niente comunque come vedete probabilmente sarà l'edificio del boss in cui dovremmo intrufolarci e rubare tutte quante le cose quindi veramente interessantissimo qui un'altra visuale dell'isola come vedete ci sono delle persone probabilmente sarà abitata quindi non sarà proprio un'isola interamente privata non sarà un fort zancuto a isola ma sarà abitata magari con la gente del luogo che appunto ci potrebbe aiutare magari ci saranno nuovi dialoghi e via dicendo quindi veramente interessante sotto questo punto di vista invece parlando del nuovo business Rockstar Games come vedete nel post ha parlato anche di un sottomarino gigante in arrivo che sicuramente sarà il nostro nuovo business come vedete si potranno utilizzare i missili sottomarini semplicemente accedendo a questo pannello come vedete c'è scritto missile attivo potremo scegliere dove lanciarli e via dicendo quindi veramente interessante sicuramente sarà utilizzato in una preparazione o magari anche nel colpo stesso chissà appunto come funzionerà invece questi qui sono i missili come vedete visuale interna e poi ragazzi questo qui è diciamo un'altra funzionalità del sottomarino ovvero con il periscopio per vedere sopra questo qui ragazzi è il nuovo sottomarino secondo me costerà più di 4 milioni insomma fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti io sono veramente curioso mi sembra veramente una bomba questo DLC vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale se siete nuovi per i migliori glitch e contenuti su GTA Online vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video